Un utente che ha in scadenza la sua patente si rega presso un medico di base, un ufficiale medico, uno di questi autorizzati al rinnovo delle patenti e fa la sua visita medica. La visita medica consiste nell'esame della vista, consiste nel rapporto che c'è tra il medico e le domande che gli fa se non ha problemi di udito, non ha problemi di motori, eccetera. Il medico lo vede perché è il suo compito e rinnova la patente tranquillamente per gli anni di competenza, due anni possono essere due o tre a secondo dei casi. Se il medico invece attraverso questa visita si accerta che dall'altra parte c'è un utente che ha dei problemi, rimanda questo signore alla commissione medica. La commissione medica poi provvederà a fare la visita e rinnova la patente per le sue competenze. Forse sarebbe stato più logico fare dei corsi, magari così, informativi, per sapere cosa è cambiato nella viabilità stradale, perché tante cose sono cambiate. Chi ha preso la patente 30 anni fa, 40 anni fa, non sa le cose che sono cambiate, cioè l'obbligo della circolazione stradale e gli impegni che c'è nella circolazione stradale. La vita è diversa, prima circolavano 20.000 macchine, adesso ne circolano 80.000, c'è un problema, quindi c'è uno sviluppo. Forse per questo c'è una carenza e sarebbe più logico, magari così, come fare un recupero punti di una patente? Se si andano avanti a una scuola, anche gratuitamente, perché non è bisogno di farsi pagare tutto nella vita, però sentire un insegnante di scuola guida di oggi che spiega certe cose, come si comporta sulla guida di tutti i giorni, forse sarebbe stato più logico. Grazie. Grazie.